Oh pollo di youtube Mi sono a stampa a Dovano Con il piccolo Jason Ecco Oggi abbiamo cambiato personaggio Però siamo qua, guarda questa sarà la parte più Penso divertente del video Perché poi siamo a commentare uno 0 a 0 0 a 0 Molte volte non è divertente, non è stato uno 0 a 0 Divertente, poche occasioni Però due squadre che comunque Secondo me se la sono giocata pieno alla pari Quindi per me il pareggio è giusto Stona quel 0 tiri in porta del Padova Perché in casa insomma Mi va un po' stretto Aveva il microfono Esatto E ecco vedi almeno 0 a 0 però almeno rendiamo il video un po' più divertente Perché veramente è una piaga sto video Onestamente parlando Comunque sia non è da buttare Uno 0 a 0 con la Feralpi però C'è da dire che gli ultimi 15 minuti che eravamo in Superiorità numerica Come cacchio si fa qua ad accendere Così credo Aspetta No non si accende Vabbè Video al buio ragazzi Vai fai luce te Ecco Alzalo Mettilo No no Così aspetta Così 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 iniziare il video Ecco ma che iniziamo Andiamo avanti E allora No dicevo Ma che ne me ne frega Facciamo tutto No comunque sia appunto Gli ultimi 15 minuti che eravamo in superiorità numerica Dovevamo cercare di fare molto di più Non abbiamo fatto neanche un tiro Mi sa abbiamo fatto se non con la suppunizione Quello schema che abbiamo colpito a barriera Quindi non lo considero neanche tale Poi detto questo Non è che ci sia tanto da dire C'è un partito più o meno sufficiente Da parte di tutti quanti A parte Valente Che è entrato e ha fatto cagare Come al suo solito E Difesa abbiamo retto bene Forse ecco Il miglior reparto Questa volta è stata la difesa Un perrotta Un Belli Un Delicari Che non hanno fatto passare quasi niente Un Un Capelli Che sulla fascia lì Mi sta piacendo molto Così come anche Villa Favale Comunque hanno fatto la loro Discreta partita Forse mi aspettavo qualcosa di più Da Chris Etting Capelli era quello calvo No Capelli Hai capelli Beh pensassi Se fosse capelli E fosse calvo E E appunto ecco Una cosa Forse non era la partita giusta per Fusi Questa è vero che uno Che ci la mette tutta a centro campo Però Quando magari trovi Una squadra Un po' più tecnica Forse sarebbe il caso di giocare Con uno più tecnico in campo Ok Che poi la Feralpi Più o meno è al pari nostro E che quest'anno La Feralpi Falsalò Sta facendo Abbastanza schifo Perché non hanno un grande allenatore A me l'allenatore della Feralpi Salò Non piace per niente Però la Feralpi Salò È una squadra che poteva Tranquillamente essere una mina vagante Quest'anno Per il gruppo A E appunto Poi è entrato Cretella Che ok Non avrà fatto chissà cosa Però è riuscito a toccare Molti più palloni diffusi Secondo me E Che altro Anche Varas Per quanto si è impegnato Però Non è mai riuscito a essere spigoloso Così come Liguori E Bortolussi Ha avuto sì Un'occasioncina Però Anche lui Anche là Si è visto poco È giusto che giochi Bortolussi Ripeto Perché Comunque È più feeling col gol Rispetto a uno Spagnoli Ecco Però Niente Oggi veramente C'è stato Unica cosa Voglio dire Non me la prendo con l'allenatore Secondo me l'allenatore Ha fatto le sue scelte Per quanto si possa criticare Fusi O aver tolto Liguori Per Quella mezza pippa di Valente Io apprezzo molto E questa cosa Non la fanno in tanti Neanche in Serie A Resta in dieci La Ferralpi Salò Toglie uno dei tre difensori centrali Così gioca a due Aggiunge un centrocampista In questo caso Bianchi E E ha fatto più che bene Secondo me Poi non abbiamo fatto niente Ripeto Io non do la colpa all'allenatore In questo caso Do la colpa Al fatto che Potevamo cercare Comunque sia Con i giocatori Di fare fraseggi Un po' più rapidi O anche qualche tiro Da fuori in più Mi ha ottenuto veramente poco Ecco E niente Detto questo Non penso ci sia altro Da aggiungere Iscrivete al canale YouTube Se volete Se volete mettete mi piace Un mi piace anche per il buon Piccolo Jason Nevo mangiare bigui Nevo mangiare bigui Esatto E Sempre forza Bianco scudati Ciao